ciao a tutti benvenuti sul nostro canale youtube metodo easy tennis play oggi vi voglio far vedere come correggere la mancanza della rotazione del braccio dell'avambraccio nel rovescio ad una mano tramite il finale allora se io mi obbligo di finire in questo modo per forza ruoto devo ruotare il braccio l'avambraccio per portare portare la racchetta in avanti e poi qui se il finale è così significa che non ho ruotato qui nella fase di accelerazione finisco qui guardate il braccio è verso l'alto invece qui è indietro quindi ho ruotato per forza il braccio grazie ci vediamo al prossimo video ciao